Nuove manovre militari della Cina attorno a Taiwan che si presentano come un accerchiamento di quella che considerano una provincia ribelle. I radar di Taipei hanno registrato l'ottavo sconfinamento nell'ultimo mese, questa volta avvenuto con numerose unità, almeno quattro navi della Guardia Costiera scortate da altre due imbarcazioni. Oltre a decine di caccia, si parla di 49 che hanno impegnato lo spazio aereo dell'isola. Un gesto minaccioso da parte di Pechino che avviene non a caso tre giorni dopo l'insediamento del neopresidente eletto William Lai, considerato un pericolo separatista. Nel suo discorso Lai ha pronunciato decine di volte la parola democrazia, annunciando l'intenzione di preservare lo status in vigore dal 49, ovvero l'indipendenza di Taiwan. Ma è come in questa occasione le autorità mandarine hanno accompagnato esplicite minacce alle simulazioni militari in cielo e in mare. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, nell'ultimo briefing, è arrivato a sostenere che coloro che cercheranno l'indipendenza di Taiwan rimarranno con la testa rotta. I vertici militari hanno scelto una formula più concreta, per questo ancora più preoccupante. La nota del Comando del Teatro Orientale e dell'Esercito Popolare di Liberazione, riportata dai media cinesi, parla di esercitazioni finalizzate a testare la capacità di presa del potere tramite attacchi congiunti e il controllo dei territori chiave, conquistare l'isola con la forza se necessario. La Cina, che alla fine del secolo scorso aveva scelto di pensarsi superpotenza, si è nel frattempo dotata di un'imponente macchina militare. Cerca il dominio del suo mare che passa dal controllo di Taiwan.